Ciao, Gostip News! È stato difficile doversi tramutare fisicamente, tu sei così bella, e doversi non depilare per un periodo? È stato fantastico, guarda, veramente, magari poterlo fare oggi, purtroppo oggi chiaramente non è possibile andare in giro un po' curate, però devo dire che mi ha aiutato molto, io mi sono ispirata molto alla mia nonna, perché per un periodo sono cresciuta con lei, per cui avevo questi ricordi di questa donna, di questa figura femminile siciliana, che mi ha aiutato molto e mi ha suggerito proprio la creazione e la formazione poi del mio personaggio di manina, chiaramente oltre il grandissimo aiuto del mio maestro Giuseppe. E un'altra cosa estetica, le occhiaie, ha detto che le occhiaie ti rendevano ancora più sexy. Lui ha detto così, lo ringrazio molto, ma io ce li ho di mio e chiaramente a volte si accentuano, però detto da Giuseppe è veramente un grandissimo complimento, mi terrò le mie occhiaie. Quindi una donna più vera, la donna sexy di Tornatore? Io mi auguro di sì e credo proprio di sì, anche perché proprio la differenza, voglio dire i difetti poi, se vogliamo, di una persona fanno la differenza, perché se no siamo tutte uguali e questo veramente è una cosa che rende molto triste, noi donne stesse, rispecchiarci, voglio dire, forse c'è una voglia di ritorno al semplice, al passato, quindi alla bellezza naturale, insomma. Io mi auguro di no, nel senso perché mi sono innamorata di questo lavoro, di questo mestiere e spero di continuare chiaramente e ce la metterò tutta.